Come sicuramente i più attenti di voi si saranno accorti non esistono più schede video di fascia bassa ovvero quelle schede video che costano meno di 200 euro 150 eccetera e c'è una motivazione che forse è il caso di prendere in considerazione Salute ragazzi e bentornati in questo nuovo video Prima di iniziare ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale ancora elevato attivando la mia notte notifiche e iscrivetevi ai canali telegram delle offerte perché c'è stato il Prime Day ed ovviamente se non seguite il canale delle offerte vi perdevo tutte le offerte quindi mi raccomando i link sono in descrizione ma adesso partiamo Oggi per parlarvi di questo argomento voglio scegliere però un oggetto particolare che tra l'altro è un altro oggetto che sta andando di modo ultimamente che sono i mini PC perché infatti oggi abbiamo un mini PC che ha una scheda video integrata AMD la 680M e oggi abbiamo come prova il Geekom AS6 Il Geekom in prova ha un AMD Ryzen 9 6900HX che è praticamente quasi un processore top di gamma pochi i processori riescono a batterlo anche se uno ci riesce soltanto al lato processore che è tra l'altro il sistema con cui l'abbiamo messo a paragone ovvero l'Intel NUC con l'i7 1370P abbiamo poi 32 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e un SSD da 1TB che si è scoperto essere tra l'altro un Kingston dovrebbe essere 4.0 ma in realtà ha delle velocità molto più simili a qui quindi un 3.0 un 3.6 in lettura e un 2.7 in scrittura sequenziale ovviamente questo sistema tra l'altro noteremo subito è scritto Powered by ASUS perché l'OM che fa questo mini PC è appunto ASUS nel suo modello P53N mi sembra quindi praticamente è lo stesso tipo di prodotto ma ha un catch molto interessante questo Geekom invece di costare 900€ in questo momento è sconta e ne costa 650€ per 650€ è un mini PC che vale la pena di prendere in considerazione perché questo? perché la 680M cari ragazzi è una di quelle schede video integrate che riesce ad avere delle performance veramente veramente buone innanzitutto la 680M è una scheda video integrata che non fa più parte della famiglia Vega ma fa parte della famiglia RDNA quindi praticamente è un RDNA 2 e potete sfruttare tutte le migliorie che sono state fatte appunto sulla RDNA 2 più ovviamente tutti i software del comparto open source come per esempio l'FSR quindi insomma abbiamo già un bel quadro di cose da provare ovviamente è sul processo produttivo a 6nm ed è una scheda che tra l'altro c'è già una cosa in più rispetto alle 6500 e alle 6004 utilizza 8 linee PCI Express invece di 4 il che la mette in una posizione molto favorevole soprattutto rispetto alla 64 perché quando prendiamo in considerazione il PCI 4.0 è una scheda che va in linea con RX 6.4 invece se la prendiamo in considerazione dal punto di vista del 3.0 cioè mettiamo la 64 su un processore 3.0 questa non la puoi prendere, staccare, al processore metto in un'altra parte la scheda riesce ad avere performance superiore a un RX 6.4 che ancora oggi paghiamo circa 130-140 euro la scheda video diciamo che più si avvicina delle performance average mettiamola così è l'ARC A380 per esempio che è anche quella comunque di una scheda video da 150-160 euro quindi comunque capite bene che c'è tanta potenza in un oggetto così piccolo ovviamente un sistema del genere come il Geekom S6 può essere utilizzato per l'editing video perché voglio usare su una macchina del genere sul Mac Mini la gente ci edita, lo possiamo fare sul nostro Geekom S6 ebbene allora voglio utilizzare un software che tra l'altro in questo momento è scondo che è Wondershare Filmora nella nuova versione Filmora 12 è davvero molto facile da utilizzare anche perché Filmora vi dà l'opportunità di poter utilizzare una serie di strumenti tramite l'intelligenza artificiale che vi fanno già una buona parte del lavoro anche quel tipo di editing semiprofessionale che magari molti di voi richiedono per esempio avete un soggetto che volete staccare dallo sfondo per qualche motivo per poi andare a modificare l'immagine vi basta un click e con Filmora potete farlo ci sono anche i plugin per il miglioramento audio tramite l'intelligenza artificiale quindi anche se non siete degli esperti dell'audio vi basta premere un click e l'audio va magicamente a posto ovviamente all'interno di Filmora sono anche disponibili tutti i plugin per fare appunto la gradazione del colore e altri strumenti per la correzione del colore e non solo inoltre in questo momento sono disponibili i saldi estivi e praticamente trovate tutti in descrizione il link per poter scaricare il Filmora poterlo provare ovviamente e poi decidere ovviamente se acquistarlo oppure no come sono andati i test su Filmora? bene abbiamo utilizzato un file in 4K gliel'abbiamo lanciato praticamente su questo povero 6900HX 680M su questo povero Geekom che è una macchinuccia così piccola che dovrebbe avere dei problemi a doverle editare timeline fluida tempo di rendering praticamente di un minuto uguale a 40 secondi e soprattutto il motore e media di AMD quindi sta iniziando a funzionare veramente veramente bene le 6000 erano partite più o meno come schede video soltanto gaming e rispetto alla concorrenza sembravano perdere molto ma vi devo dire la verità ultimamente le cose sono migliorate si riesce a avere anche in quel caso un'ottima situazione e tra l'altro una delle cose più interessanti è che tutto quanto è stato fatto quello che vedete a schermo la timeline fluida e tutta l'esportazione è stato fatto mentre tra l'altro il PC stava anche registrando il che vuol dire che la combinata 6900HX 680M è davvero potente per il compito a cui è stata assegnata la timeline fluida e tutta l'esportazione sono fatta mentre tra l'altro il PC stava anche registrando il che vuol dire che la combinata 6900HX 680M è davvero potente per il compito a cui è stata assegnata quindi partendo subito dal punto di vista che vi interessa di più una soluzione gaming ok rispetto per esempio a qualche altra scheda video integrata come può essere l'iris xe che sta all'interno del 1370p come va? Allora partendo dal presupposto che questa scheda la possiamo anche paragonare alle vecchie Vega che già quelle erano leggermente superiori per quanto riguarda appunto l'ambito gaming o comunque grafico rispetto all'iris xe questa scheda migliora oltre realmente le performance partendo per esempio da Batman Arkham Knight che è un gioco abbastanza vecchio però comunque parliamo di schede video integrate quindi non possiamo andargli a spingere roba come Cyberpunk anche se comunque lì in Full HD con l'FSR che non è una cosa che amo però comunque riusciamo ad avere dei risultati comunque che si può giocare che è assurdo pensare che si riesce a giocare sempre quando su una scatoletta così piccola però se volete potete anche farlo ecco è un'esperienza molto simile a quella console le performance di Batman Arkham Knight vanno a superare quella dell'iris xe non di tanto ma quello che comunque dove vediamo la vera vittoria di questo piccolo sistema è dal punto di vista del TDP infatti noi facciamo una specie di rendicontazione frame per watt è molto molto superiore rispetto a quella dell'iris xe un gioco come Counter Strike invece mette in rilievo un'altra situazione dal punto di vista della grafica sappiamo che la 680M batte su tutto il fronte l'iris xe ma il 6900HX nonostante sia un super processore rispetto al 370p dal punto di vista puramente computazionale e puramente processore anche perché diciamo il 370p è la serie superiore di processore mentre il 6900HX è tipo la penultima di AMD possiamo andare ad osservare come in un gioco come Counter Strike dove necessariamente non è più la scheda video il bottleneck ma sapete benissimo che non esiste il bottleneck e la scheda video l'iris xe riesce a spingere più frame anche utilizzando un processore di gamma precedente come il 1280p il 370p ne fa ancora di più insomma provate a capire che dal punto di vista della CPU sicuramente insomma è un ottimo processore però c'è anche di meglio ovviamente anche da costi maggiori quello mi sembra ovvio dal punto di vista della grafica invece non si hanno problemi interessantissimo come su giochi come Dirt Rally 2 riusciamo a raggiungere anche cifre come 90 frame per secondo ovviamente dettagli bassi ma Dirt Rally è abbastanza ottimizzato anche con dettagli alti riusciremo ad avere un'ottima esperienza di gioco e proseguendo anche su un gioco come Hitman 3 che è decisamente più pesante si riescono ad avere circa 30 frame per secondo ora non so se vi è chiaro insomma più o meno questa scheda andando a consumare più o meno 10-15 watt ha la stessa potenza praticamente forse vi do un po' un cazzotto ok un RX 570 da 4 giga quindi voi capite bene che l'RX 570 da 4 giga è una scheda che consumava i suoi bei watt questa consumerà 15 volte meno e c'ha la stessa potenza è un salto prestazionale enorme anche se la finestra di tempo è grande però dovete capire che questa è una scheda video integrata che è fatta per giocare in full HD dettaglio basso, medio, basso quindi una vera scheda video integrata e a questo punto considerando che noi abbiamo delle schede video di fascia media, medio, bassa come per esempio ci vengono venduti oggi che può essere non lo so la 6600 o la 3050 o la 6500 eccetera che sono schede video per cui noi prendiamo per il full HD magari a dettagli alti capite bene che mettereci una scheda lì in mezzo a 150 euro che vada poco più di questa e poco meno di quelle diventa un cuneo difficile in cui incunearsi cosa brutto ho detto però è più o meno così quindi praticamente a incunearci saremo noi passatemela questa dai anche se è un pochettino borderline cosa possiamo aspettarci quindi di avere su un mini PC del genere allora innanzitutto il formato è veramente piccolo e viene dato in dotazione anche praticamente con la placca per l'attacco pesa quindi potete anche collegarlo o dietro al monitor per fare proprio diciamo il vero monitor smart abbiamo due porte USB A sul lato anteriore più una porta USB C sempre sul lato anteriore e il jack per le cuffie dietro ci sono altre porte USB più tre uscite video che praticamente sono due HDMI e una display port cosa molto importante ragazzi se prendete il Geekom l'uscita principale è la display port quindi se voi accendete il Geekom e attaccate direttamente l'HDMI non vedete niente a schermo almeno fino a che non state a sistema operativo e ha avanzato insomma quindi partire sempre dalla display port cosa molto importante all'interno c'è il Wi-Fi 6 ma se vi devo dire la vera non è sicuramente la sua caratteristica migliore ecco del Wi-Fi è abbastanza ballerino però nonostante questo compensiamo comunque una bella scheda Ethernet una bella entrada Ethernet da 2,5 gigabit quindi comunque insomma se sapete che tanto deve stare fermo va bene così teoricamente però il Wi-Fi se lo vedo utilizzare non lo so vicino alla televisione per magari vedere qualcosa su Netflix va bene per quanto riguarda anche non lo so il trasferimento in rete locale ma non so poter utilizzarlo come game streaming va bene se dovete giocare online direttamente col Wi-Fi non è una cosa che vi consiglio di fare ci ho provato non è stato risultato eccezionale cosa molto importante tra l'altro per il 6200HX per la 680M e per il Geekom a questo punto era la gestione delle temperature le temperature non diventano mai troppo elevate si può arrivare anche a picchi di 95 gradi come praticamente in qualsiasi tipo di sistema mobile ma è veramente una situazione assurda per arrivarci l'unica cosa è che per non arrivare a temperature così alte il Geekom tende ad essere alle volte leggermente rumoroso sotto carichi elevati quindi praticamente insomma c'è questa ventola che gira parecchio raffredda anche tanto quindi comunque non vi dovrete mai e poi mai preoccupare delle temperature insomma di questa piccola macchina però ogni tanto il lo sentite ovviamente per quanto riguarda la 680M il 6900HX e il Geekom ho visto che c'erano inizialmente delle perplessità per quanto riguarda il comparto Linux perché ovviamente come avete visto da Foronix eccetera molti dei test li abbiamo fatti su Linux perché a me serve un ambiente stabile per provare qualcosa altrimenti mi diventa impossibile fare tutto devo dirvi la verità sarà che forse ho provato con un kernel diverso e ovviamente io sono andato con la mia soluzione preferita che è Endeavor OS quindi Arch non ho avuto praticamente nessun tipo di problemi e praticamente lo stesso problema che riscontravo sulla display port intesa come uscita l'avvio principale ce l'ho avuto sia su Windows sia su Linux quindi evidentemente è proprio un'impostazione firmware della macchina e da lì non ci si può fare nulla a meno che non si parla a modificare quello però per il resto comunque gira tutto molto bene non ci sono problemi di alcun tipo da quel punto di vista quindi comunque insomma devo dire che anche per il supporto Linux va bene non ho provato ovviamente il supporto MacOS anche se è una mezza piccola idea di fare qualche strano esperimento anche se è un processore AMD più o meno ce l'ho però scrivetemi uno dei commenti e se lasciare abbastanza mi piace potrei decidere di ma avete capito per il resto ragazzi l'unico cosa che voglio dirvi è preparatevi comunque ad un mercato dove schede video che costeranno meno di 200 euro non esisteranno l'abbiamo già visto le soluzioni che sono uscite come la 7600 e la 4060 sono comunque soluzioni che partono praticamente da 300 euro e non possono scendere a 200 possiamo aspettarci una 7500 possiamo aspettarci una 4050 sì ma aspettiamo soluzioni non al 250 euro chiede video di fascia bassa come fu la RX 570 129 euro 4 GB nella versione sapphire monoventola che tutti di voi se la ricordano penso che al momento non se ne vedono e sarà molto difficile che verranno introdotte nel mercato staremo a vedere nel frattempo ragazzi mi raccomando fatemi sapere voi cosa ne pensate commentate condividete e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao